Raid vandalici in serie, di inaudita violenza e senza alcuna motivazione. È rimasto poco o niente della sede dell'Associazione Nazionale Mutilati in Vali di Civili di Figline Valdarno. Risale al 2 giugno la prima denuncia alle forze dell'ordine, ma nelle notti successive i ignoti, si fa per dire, hanno completato l'opera. Noi il 2 giugno esporto denuncia, sono andato io personalmente all'arma di Carabiniera a fare denuncia, però dopo il 2 giugno abbiamo notato che sono già rientrati altri due o tre volte. E poi hanno rotto la porta. Il vandalismo così brutale, gratuito, devastatore a questa maniera rimango ancora incredulo. Questo è ciò che resta della sede dell'Associazione. Sedie, fogli sparsi, è una devastazione che francamente lascia senza parole. Lascia senza parole anche perché nel mirino è finita un'associazione senza fini di lucro che si occupa delle persone più fragili come gli invalidi. L'ANMIC è in piazza a salvo d'acquisto da oltre 20 anni, nei locali di proprietà comunali adiacenti a quelli di un'altra associazione, Legambiente, che ha ricevuto dai vandali lo stesso trattamento. La zona è da tempo in balia del degrado, tra rifiuti abbandonati, scritte vergate sui muri e qualche segno che lascia intuire l'utilizzo di droga. A quanto pare qui ci circola balordi o gente comunque senza tetto, drogati, spacciatori e questo poi è il risultato. Ma il danno più grande è quello morale. Siamo volontari che due volte alla settimana veniamo qui, io e il mio collega Crescentini di Firenze, a fare servizio gratuitamente per aiutare le persone disabili come ne sono io. L'associazione non si è persa d'animo. All'indomani dell'ultimo ride, tecnici hanno iniziato la ricostruzione, mentre si indaga con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza della zona.